buongiorno oggi voglio lavorare con voi e voglio fare diciamo dipingo con con i colori per tessuto su questa mantella nera praticamente una volta che inizio a lavorare non parlo diciamo che farò un ramo di rose e rose tra bianche e rosa colori molto tenui su questa mantella niente se vi piacciono le cose continuate a guardarmi canale cose di tosca ecco l'unica cosa che vi voglio dire e cautelate il vostro lavoro con dalla plastica come ho fatto io e poi i colori chiedo però sono ovviamente quelli per tessuto che poi una volta è una volta asciutti andremo a stirare è tutto qui non ci sono altri segreti andrò a bagnare un pochino il mio lavoro per per far sì che appunto mi entri meglio dentro perché è una lanetta di passare sulla banetta farò così i pennelli chiedo però sono pennelli piatti eccoli la gamma dei colori e questa semplicissima bene e lo andiamo a lavorare ok grazie a tutti 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 grazie a tutti